bentornati amici carissimi e amiche tutte per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai sette vizi alle capitali e alle sette virtù cristiane teogali e cardinali continuiamo oggi il nostro viaggio all'interno delle virtù cardinali della prudenza che la volta scorsa abbiamo introdotto e brevemente velocemente illustrato ovviamente per grandi linee perché è impossibile scendere troppo nei particolari però qualcosa l'abbiamo visto nei passaggi alcuni passaggi salienti della saga scrittura e alcuni passaggi molto importanti del catechismo della chiesa cattolica oggi cominceremo un pochino a entrare dentro questa virtù molto importante l'abbiamo la volta scorsa è la origa delle virtù sotto la guida di san tommaso d'aquino e come tante volte ho avuto modo di evidenziare è veramente un straordinario maestro in tema appunto di vizi e di virtù la sua trattazione rimane a mio avviso la più completa che ci sia la più esaustiva non ho mai visto qualche cosa che gli si possa in qualche modo accostare dragonare né tanto meno superare poi è bene a mio avviso seguire questo grande maestro per conoscere un pochino questa virtù sappiamo noi le virtù le dobbiamo le dobbiamo conoscere per sapere cosa sono per sapere anche riconoscere per poterle praticare ricordiamo sempre che in quanto battezzati noi gli abiti di tutte le virtù teologali anzitutto che senza battesimo ce le sogniamo proprio come abbiamo visto no ma anche quelle cardinali le abbiamo tutte quante ricevute quindi cosa vuol dire che abbiamo l'abito delle virtù vuol dire che la radice come dire è ciò che la virtù è già c'è in noi è solo che dobbiamo punto primo esercitarla e punto secondo le virtù si alimentano con la grazia con la preghiera e con la pratica se mancano uno tutte e tre di queste cose le virtù rimangono morte quindi c'è come dire sempre noi un abito che è come se fosse è come se ci fosse un abito appeso dentro un armadio ecco tanto per usare una metafora un po molto molto feriale forse non del tutto adatta però tanto per farci capire è come se non c'è un abito dentro un armadio e quell'abito non lo tira fuori mai quindi è come se non ce l'avessi perché l'abito serve perché tu lo indossi se no che ce l'ha fa dentro l'armadio ecco quindi se non abbiamo la grazia non abbiamo la preghiera o non abbiamo la pratica e anche perché le virtù ricordiamo sempre così come vizi crescono con le ripetizioni degli atti come cresce la mia prudenza cresce compiendo degli atti di prudenza cioè trovandomi di razzo una situazione faccio discernimento e trovo la cosa giusta da farsi in quella particolare situazione ma capite che la prudenza e la virtù che presiede dovremmo averlo capito no tutte quante le nostre scelte e solamente le scelte che hanno rilevanza morale in senso ampio quindi capiamo quanto è importante questa virtù no riprendo rientriamo subito nel merito una frase di sant'ommaso che credo abbiamo già nominato però ripetita juvent la prudenza è una virtù sommamente necessaria per la vita umana perché vivere bene consiste nel ben operare e perché uno compie il bene non basta considerare ciò che compie ma anche il modo in cui lo compie si richiede cioè che agisca non per impeto di passione ma seguendo un'opzione retta capiamo subito una cosa già da questa espressione di sant'ommaso no quando si dice ah io agisco distinto ah io agisco di pancia ah io dico quello che penso ecco sicuramente stiamo fuori della virtù cardinale della prudenza si possiamo mettere la mano sul fuoco la mano sul fuoco perché di getto di impulso di impeto di passione sicuramente non si fa mai la cosa giusta la prudenza è una virtù che ci insegna come dire a a muoverci sempre con estremissima calma adesso vedremo a ponderare bene le situazioni i valori in gioco le possibili varianti circa le azioni le conseguenze delle nostre azioni i mezzi che usiamo per porre in essere una certa azione eccetera quindi è una virtù importantissima tenete presente che generalmente questa virtù è di come dire è inversamente proporzionale o meglio direttamente proporzionale all'età ordinariamente nel senso che più si diventa adulti più facilmente o meno difficilmente si esercita la virtù della prudenza sapete che i giovani sono caratterizzati appunto dal dall'istintualità ecco dal fatto che agiscono proprio senza riflessione senza ponderazione agiscono di getto di botto è molto difficile trovare un giovane prudente però è anche vero che in questi tempi non è raro trovare anche una persona matura un uomo o una donna o addirittura addirittura anche un anziano che non sembra almeno nelle manifestazioni e nelle azioni brillare in prudenza nonostante la non più troppo tenera età ecco perché questa è una virtù dice santo maso intellettuale ricordiamo quando abbiamo nominato le cinque virtù intellettuali acquisita attenzione mediante l'esperienza o l'istruzione noi abbiamo ripeto l'abito quindi lo scheletro infuso grazie al sacramento però questa è una virtù che dobbiamo sviluppare acquisire come attraverso l'esperienza per esempio una fonte fondamentale per acquisire questa virtù è trarre profitto dai propri errori e peccati attenzione che la prudenza ci preserva molte volte non soltanto dai peccati ma anche dagli errori gli errori non sono atti della volontà attenzione ma sono atti dell'intelletto sbagliati cioè io commetto un peccato quando faccio una cosa cattiva e la mia volontà la fa sapendo di farla io commetto un errore sono convinto di fare bene e quindi la mia volontà non è cattiva nel senso che non aderisce a un qualche cosa che so essere contrario alla legge di dio anzi sono convinto di fare il bene ma in realtà ho fatto male ecco quando c'è un problema di questo genere generalmente ciò che manca è la prudenza perché non ho fatto un buon discernimento non ho individuato il bene reale in questa situazione quindi se si preferisce utilizzare questo linguaggio cosa che non solo si può fare tranquillamente ma è teniamo presente che anticipiamo un tema no c'è un dono dello spirito santo che è il consiglio che proprio quello che perfeziona la prudenza no la madonna è venerata anche come madre del buon consiglio oltre che come vergine prudentissima l'esperienza imparare soprattutto dei propri errori e peccati ma anche l'istruzione io devo acquisire le conoscenze per esempio necessarie per fare un buon discernimento quante volte ho detto con sacerdote su questo ha un ruolo fondamentale no qualcosa la vedremo questa sera anche comprendere bene le parti della prudenza le virtù connesse che vedremo subito le caratteristiche di questa virtù i vizi opposti quali sono no oppure l'ultima stommaso fa una cosa anche interessantissima dei vizi opposti alla prudenza che però sembra che le esomeglino quindi fa un discorso molto esaustivo molto bello questa istruzione è importantissima per poter esercitare autenticamente e veramente questa fondamentale virtù allora cominciamo con tre virtù che sono strettissimamente connesse con la prudenza che sono, sono dei termini greci o grecizzanti l'eubolia, la syunesis e la gnome cosa sono? eubolia viene dal greco eu significa bene ebulia tabulo mai che vuol dire considerazione quindi l'eubolia è fondamentalmente una la buona considerazione cioè questa virtù è l'abito mediante il quale deliberiamo bene quindi la capacità di deliberare bene di prendere una buona decisione ora è chiaro che per prendere delle buone decisioni noi dobbiamo avere immagazzinato per fare un esempio cosa dice Gesù al giovane ricco? cosa devo fare per avere la vita eterna? osserva i comandamenti consigli per gli acquisti soliti il circuito di catechesi della santa dottrina cattolica è stato proprio quello che ho fatto l'anno scorso pensato per riapprofondire dieci comandamenti e riappropriarci dei mezzi che ci danno la grazia necessaria per osservarli che sono i sacramenti e come faccio a deliberare bene se per esempio non so bene ciò che è bene e ciò che è male perché la prudenza delibera sia nel riconoscere il bene concreto nella situazione da farsi sia anche nel portarmi attraverso mezzi buoni a loro volta idonei e adeguati a conseguire quel bene in quella situazione ma è chiaro che prima lo devo conoscere se no farò un buon discernimento non delibererò bene l'eubulia non ha come dire il materiale su cui muoversi su cui deliberare poi la siunesis oh oh San Tommaso la definisce il buon senso comune cioè la capacità di applicare la legge comune e ordinaria ordinariamente nelle grandi decisioni ci si attiene alla legge comune alla legge ordinaria però come ben sappiamo la legge ordinaria soffre delle eccezioni quindi la capacità di riconoscere l'eccezione e i momenti straordinari è fondamentale e questo è il compito della terza virtù connessa l'agnome la capacità di individuare le eccezioni alla regola o la circostanza straordinaria che chiaramente paralizza l'uso della legge facciamo subito un esempio proprio tratto dalla vita comune non rispondo io perché si dovrebbe arrivare da soli supponiamo che io mi trovo d'estate a mezzogiorno in una strada non di città periferica agosto traffico zero arrivo ad un incrocio dove c'è un semaforo rosso allora sia il lato destro che il lato sinistro dell'incrocio io sto fermo evidentemente si vedono benissimo chiaramente senza nessun dubbio fino a 100-200 metri di lontananza dal semaforo ok bene io ho un'urgenza perché ho fretta devo raggiungere un posto celermente allora la domanda è il semaforo è rosso quindi la legge ordinaria dice che con rosso non si passa ci sono due cose però due circostanze numero uno io ho fretta per una cosa evidentemente importante non per una fretta sponiamo che sia un problema importante numero due stiamo al 20 d'agosto ci sono 40 gradi a mezzogiorno in quel posto in giro non c'è nessuno e io questo lo posso vedere con gli occhi sia a destra che a sinistra domanda se passo con rosso in queste circostanze faccio peccato punto interrogativo lo sto dicendo che faccio bene ma faccio peccato certo se sul semaforo c'è installata la la telecamerina che controlla che ti passa con rosso se lo fai ti potresti beccare la contravenzione la devi pure pagare ma da un punto di vista morale se passassi con rosso in queste circostanze commetti peccato punto interrogativo allora capiamo no? è evidente se non fosse il 20 d'agosto e fosse un momento in cui c'è traffico d'accordo in cui ci sono il discorso è chiuso ti fermi e basta se c'è fretta che devi portare uno in ospedale fai quello che si deve fare normalmente quindi suoni il clacson continuativamente metti il fassoletto dal vetro e passi ma solo in quelle circostanze però capiamo anche l'esempio che ho fatto capiamo il processo mentale perché posso passare il rosso anche se c'è fosse traffico perché se c'è stato uno in macchina che stava a morire la priorità è raggiungere l'ospedale il più presto possibile c'è una cosa gravissima che supera il codice della strada che però non è che non vale più vale ma ha questo momento di momentaneo blackout paralisi dovuta a questa circostanza soggettiva sto trasportando un malato grave scusate se mi dilungo insomma in questi in questi esempi ma credo che sia importante perché se no le parole rimangono un pochino troppo astratte e se non si capisce poi l'applicazione concreta come dire il giovamento di chi ascolta di chi dovesse ascoltare questo piccolo contributo diventa quasi nullo cioè sono belle dissertazioni ma non capisce non sa come decodificarle e quindi è come se non le avesse sentite non servono non giovano ma un sacerdote deve essere utile ecco deve realmente aiutare quando spiega qualcosa quando fa una catechesi una persona a orizzontarsi a muoversi no ora abbiamo già detto tante volte che la sapienza facciamo un altro step da un lato ordina gli atti al fine che è il bene concreto dall'altro determina anche le vie concrete per raggiungerlo quindi sceglie i mezzi buoni San Tommaso dice che l'anima in grazia di Dio ha la vera prudenza perché essendo la prudenza la retta ragione dell'azione da compiere essa richiede che l'uomo sia ben disposto rispetto ai suoi fini ovviamente e ciò si ottiene mediante la rettitudine della volontà e quando è che la nostra volontà è fondamentalmente retta quando stiamo in grazia stiamo in grazia se perché per stare in grazia tu devi astenerti dalla trasgressione volontaria in materia grave della legge di Dio quindi vuol dire che fondamentalmente la tua volontà è ordinata alla rettitudine e così se la tua volontà fondamentalmente è ordinata alla rettitudine la prudenza avrà la possibilità di muoversi bene e quindi di poter ben deliberare quindi questa virtù che è da un lato la prima delle virtù cardinali però sotto certi punti di vista presuppone tutta quanto una serie di altre virtù che sono le virtù morali che servono a indirizzare la nostra volontà al bene perché se la nostra volontà non è già indirizzata al bene e sta indirizzata al bene nella misura in cui conserviamo la grazia la prudenza chiaramente non funzionerà bene sarà al massimo luogo come vedremo ad alcuni atti che sembrano prudenti ma non lo sono poi ci arriviamo ora la prudenza di San Tommaso si distingue in otto parti pensiamo cinque conoscitive e tre pratiche quali sono numero uno la memoria la memoria in questa virtù è necessaria per ritenere i dati acquisiti sia dall'esperienza come abbiamo già visto sia dall'istruzione vi devo ricordare le cose importanti la seconda l'intelletto che cos'è questo capacità di intuire principi conoscitivi da applicare nel caso concreto intima penetrazione della verità questo si ottiene attraverso l'esercizio attenzione al terzo punto la docilità la docilità è quella disposizione dell'anima docilità viene dal greco docheo docheo significa imparare in greco quindi sto nell'attitudine dello scolaro del discepolo che si lascia istruire dal maestro devo imparare da altri i criteri di valutazione ed i principi mi devo mettere in ascolto qui per esempio i sacerdoti giocano un ruolo fondamentale perché i sacerdoti non devono dire alle persone quello che devono fare nel concreto a meno che non ci siano di mezzo comandamenti ma devono dare proprio i corretti criteri di valutazione ed i principi in base a cui muoversi problema che tante volte si è posto in questo tempo che c'è stato adesso speriamo che non ci sia più sapete quante persone mi hanno chiamato dicendo padre in questo periodo la comunione che faccio la faccio non la faccio io però ho difficoltà a prendere l'ostia in mano che devo fare io non ho mai chiunque abbia sentito altro può tranquillamente scrivere intervenire al termine della diretta scrivere i commenti sotto il podcast sotto i video io non ho mai detto a una persona fai questo chi mi conosce lo sa benissimo quello che io penso sulla santa comunione e sul modo migliore di prenderlo quindi tra l'altro è una domanda retorica però quello che ho cercato di fare con le persone è in questo caso da loro dei criteri di discernimento che le abilitassero ad ascoltare la voce di Dio che parla alla loro coscienza e che deve essere eseguita e che in ultima analisi è il punto di riferimento fondamentale della virtù della prudenza perché la prudenza mira andare a fare la scelta che conforme alla volontà di Dio per te d'accordo? Allora io ne ho prospettato tutta quanta la situazione e a chi mi poneva queste cose qui di uguale la situazione è questa qui cioè questo 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 e questo i valori in causa sono questo 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 e questo le cose possibili da fare sono questo 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 e questo le conseguenze possibili sono questo 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 e questo ecco dopodiché mettiti in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento pregaci sopra troverai quello che devi fare quando la scelta che prospetti ti porterà profonda pace nel cuore assenza di turbamento e percezione che stai facendo la cosa giusta sapete quanta gente mi ha risposto non gli avevo detto niente ho capito tutto padre grazie chiuso il telefono ma io non gli ho detto niente ma non gli devo dire niente perché la prudenza devono esercitarla loro non la devo esercitare io al posto loro io so quello che farei in una situazione analoga ma quello che farei io perché fare una cosa che ti viene detta dall'esterno in maniera tra l'altro poi disse questo l'ho visto tantissime volte ti toglie anche il merito sotto certi punti di vista se tu non la fai tua attraverso un atto della tua virtù cardinale della prudenza oh quarto elemento attenzione anche questo è importantissimo eh si chiama anche qui un parolone eustochia o parola meno impegnativa sagacia guardate san tommaso come era che cos'è questa cosa è la capacità di ben congetturare facendo ipotesi da se stessi quindi scoprendo da soli criteri e principi esempio esempio mi trovo in questa situazione bene se faccio così cosa poi potrebbe succedere quali conseguenze potrebbe avere questa mia azione come sarebbe interpretata quali benefici potrebbe apportarmi quali danni potrebbe apportarmi pensa congettura gli uomini oh queste operazioni ne vogliono fare ma le devono fare nella messa di oggi ci ho fatto pure un tweet stasera sono andato a vedermi il testo greco di quello che Gesù dice ai discepoli di Emma stolti ho visto la traduzione della traduzione che diceva lenti di cuore corretto lenti di cuore perché il termine è proprio la lentezza ma stolti è anetoi anetoi viene dall'alfa priativo più nus senza intelletto ma senza intelletto non è che l'intelletto non ce l'hai come facoltà l'intelletto ce l'hai sei senza intelletto il numero due di questa sera non la facoltà ma l'uso di quella facoltà tu devi pensare devi riflettere perché sei un essere umano non sei un animale e se non sei buono devi imparare a farlo con pazienza ci devi mettere ci devi impara dagli errori chiedi consiglio fatti aiutare fatti illuminare non far decidere altri nel posto tuo ma fatti aiutare però cerca anche in tante situazioni di congetturare anche tu di arrivarci da solo non per superbia ma perché non possiamo sta sempre come dire non abbiamo sempre la possibilità di chiedere consigli no? e la necessità invece di fare delle scelte incombe in continuazione allora le ustocche e la sagacia arrivaci da solo imparando a ben congetturare e attenzione qui faccio un riferimento no? ci sono altre pseudo prudenze c'è la prudenza della carne c'è la prudenza del mondo c'è la prudenza diabolica la prudenza della carne da che cosa è guidata ma non è la vera prudenza che cosa mi conviene e che cosa non mi conviene che cosa mi giova mi è utile e che cosa non mi è utile questo non è un buon criterio la sapienza del mondo che cosa accresce i miei guadagni i miei interessi il mio prestigio d'accordo e che cosa invece sarebbe oggetto di biasimo dinanzi al prossimo guardate che quando per esempio in situazioni che ben conosciamo accodarsi al gregge in maniera così è una scelta fatta in base a certi criteri qual è il criterio se non lo faccio dovrò subire delle sofferenze sarò contestato dovrò subire forse una persecuzione forse saranno anche abbastanza violenti e perderò dei vantaggi perderò delle utilità delle cose positive domanda io faccio solo una domanda sono nobili criteri di decisione questi punto interrogativo è nobile un uomo che o una donna che prende una scelta muovendosi su questi orizzonti che cosa mi succederà cosa penseranno gli altri cosa ci vado a rimettere e che cose invece non ci voglio rimettere questa è la prudenza questa qui questa è la prudenza della carne così si chiama la prudenza del mondo ma noi non abbiamo queste prudenze la nostra prudenza è una sola qual è la volontà di Dio punto interrogativo in questa circostanza solo questa è la nostra prudenza io figlio di Dio cosa vuole Dio cosa vuole Dio in generale e cosa vuole da me in particolare e una volta che lo capisco di quello che pensano gli altri a me non me ne importa proprio niente dovrò pagare caro di persona non me ne importa niente d'accordo oh poi c'è la quinta caratteristica anche qui la ragione dopo facciamo un riassunto che cos'è la ragione la capacità di ben raziocinare significa fare perdonatemi anche qui il termine elevato inferenze corrette cioè imparare a collegare bene concetti situazioni rapporti di causa e di effetto ragionare bene non sragionare ragionare bene il ragionamento è la è il passaggio da un concetto ad un altro attraverso un'inferenza logica corretta voi pensate che siano molti gli uomini che sanno ben ragionare non tanti anche quelli che fanno la della ragione la scienza la della ragione l'illuminismo lo scientismo il positivismo tutti quanti gli ismi di questo mondo hanno invece i cattolici quelli sono sono becca morti sono baccalà quelli vanno appresso alla fede alle credenze noi invece abbiamo la ragione la ragione la ragione fa funzionare bene la ragione è un altro bel problema il ben raziocinare per trarre le imperenze corrette e quindi giungere alle deliberazioni giuste che mi portino davvero al bene poi c'è un'altra cosa importante la previdenza guardare le cose con occhio in prospettiva la capacità di ordinare nel presente gli atti contingenti inerenti al futuro a che cosa guardiamo noi un criterio fondamentale delle nostre scelte sapete qual è? è la vita eterna io non posso fare le scelte prescindendo dalle conseguenze che le mie scelte hanno non solo in questa terra ma oltre la terra sta cosa gradita a Dio è più gradita se è più gradita Dio Dio me la ricompenserà anche se il contrario non fosse peccato ma questa è una cosa più gradita a Dio Dio me la ricompenserà bene servo buono e fedele io faccio sempre i soliti esempi un pochino devi fare una cosa che è maggiormente gradita a Dio ma ti costa generalmente lascia perde se costa troppo se faccio il contrario non è peccato no e vabbè allora pazienza facciamo un primo esempio credicario faccio sempre gli esempi materiali perché però non voglio non si pensi che sia tutto qui io sono un prete che faccio mi metto il clergy o non mi metto la veste da l'aria specialmente che adesso arriva il caldo l'estate faccio però d'inverno non lo possiamo mettere da l'aria però l'estate se crema proprio di caldo insomma no il signore capirà dai se morre di caldo non ce la posso fare ci mettiamo un paio di pantaloni magari metto pure la camicia a maniche lunghe dai non ce l'ho fatto sbracciato però ce la posso fare l'estate ce la posso fare fa peccato un sacerdote che fa questo assolutamente no perché il clergyman in base alle leggi della chiesa è consentito senza nessun tipo di problema ma se c'è la previdenza ma se io mi sopporto un po' di caldo per amore del signore quindi spirito di benvenza e per mantenere anche col caldo un abito che esprime al meglio almeno da un punto di vista esteriore ciò che un sacerdote dovrebbe essere un uomo di Dio una persona che è morta al mondo c'è l'abito nero un abito tutto quanto lungo fine ai piedi come gli abiti che ci hanno i beati in paradiso l'abito non fa il monaco però lo manifesta tu porti quell'abito poi dovrai avere certamente un impegno di vita a conformare la tua vita all'abito che porti allora ma se tu lo metti pure d'estate ma sta cosa qui se uno pensa in prospettiva ma che pensiamo che il nostro signore fa niente te tratto come quello che si è messo la camicia funziona così no che non funziona così certo se tu guardi al caldo che ti devi prendere e dici io adesso non posso morire caldo mancanza di previdenza stessa cosa vale facciamo così no pure per gli uomini che non sono preti come ti vesti d'estate cali scendi d'accordo pensate alla gente che va in chiesa vestita come 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 scellerati in ciavate o in pantaloncini poi vanno a vedere ma no questo va bene sul bermuda no soffino le ginocchia non sono troppo corti queste cose un pochino ridicole no la stessa cosa vale per le signorine cioè la previdenza che noi dobbiamo sempre avere è pensare a lungo periodo non soltanto cosa che cosa me ne verrà quando quando Gesù finisce il discorso del giovane ricco Pietro interviene e dice oh noi abbiamo lasciato tutto t'abbiamo seguito e che cosa ce ne verrà non è non è l'egoismo dice ma che succede e Gesù gli risponde come che succede chi lascia per me casa padre figlio cento volte tanto qui e la vita eterna dopo cioè tutta la persecuzione vedete come li sta formando alla previdenza apri la capoccia non guardare solo ad adesso non guardare solo ad adesso pensiamo a tante scelte fatte da tanti nostri amici che guardano all'immediato no ah io però adesso mi risolvo questo problema adesso e illudendo di risolverti questo problema adesso ma in quali problemi più grandi ti vai a cacciare nel medio e nel lungo periodo ma ci hai mai pensato dobbiamo pensare dobbiamo lo dico anzitutto a me e imparare a pensare questa virtù è importantissima attualissima oh numero 7 non abbiamo ancora finito la circospezione cioè fondamentalissima la capacità di ben considerare ben valutare le circostanze le circostanze sapete quante sono sono tante sono sette le circostanze di ogni azione forse è il caso di di nominarle credo di ricordarle tutte a memoria speriamo che il signore mi aiuti la prima circostanza è il chi chi è che sta facendo questa azione chi è è una circostanza molto importante o chi è il destinatario di questa azione mi sto rivolgendo a un sacerdote ho tanto atto per dire io non mi posso rivolgere a un sacerdote così come mi rivolgo a mio fratello non lo posso fare perché è un sacerdote devo pensare con chi sto parlando io che sono un sacerdote non posso comportarmi in pubblico specialmente ma nemmeno in privato come se non fossi un sacerdote non le posso fare alcune cose ho scelto io di vivere in questo modo ma non le posso fare alcune cose non le posso fare ma può un sacerdote senza che giudichiate se vedete qualcuno che lo fa che ne so fumare ammesso e questo è da discutere che una cosa di questo genere sia moralmente innocua ma tu dai un buon esempio se fai questo che pensa una persona che ti vede a me non importa niente di quello che pensano gli uomini ma che discorso è cioè a me non ci importa niente di quello che pensano gli uomini quando facendo il bene ci parlano dietro ma noi dobbiamo fare attenzione che le nostre azioni non facciano pensare legittimamente male o non scandalizzino qualcuno un piccolo potrebbero scandalizzarlo se uno vede un ministro di Dio che è diventato una balena che pesa 140 chili le anime buone penseranno questo poveraccio sarà come San Tommaso d'Aquino ci avrà qualche disfunzione poverino e starà sovrappeso è diventato così per questo motivo ma sono poche le anime che penseranno questo magari veramente singola sacerdote c'è questo qui ma tu non puoi perché io le sento le chiacchiere della gente le sento pure io cioè l'immagine che tu dai non è una cosa bella perché una persona che sta così si può pensare che pratichi la virtù della temperanza difficile no? a meno che non abbia delle disfunzioni speriamo che sia quello però come fai? parlo sempre di me così non si offende nessuno può andare un prete in giro su una macchina che costa 70 mila euro ma me l'hanno regalata se te l'hanno regalata non c'è scritto sulla macchina me l'hanno regalata quindi io cavaldonato non si guarda in bocca non ci puoi andarla sopra non ci puoi andare specialmente se stai vestito da prete ma anche se non lo fossi non ci puoi andare lo stesso perché è troppo adesso non è che deve andare in giro solo 850 dei vantozzi per carità ma una cosa decorosa modesta ma morigerata ecco possibile che non faccia chiacchierare nessuno o siamo soltanto al chi eh chi vediamo le altre circostanze quando sto facendo un'azione quando esempio esempio quando una persona è arrabbiata non la devi mai rimproverare in quel momento mai il tempo è sbagliato dove facciamo sempre l'esempio di un rimprovero i rimproveri generalmente è meglio darli in privato le persone non in pubblico qual è la differenza che ci sono altre persone quindi il luogo dove questo avviene chi quando dove poi perché e per chi in che modo e con quali mezzi come comodo equibus auxilis si dice in latino capite quante sono le circostanze possono cambiare completamente una quattispecie pensate voglio fare un esempio palese i peccati impuri tu stai con la tua fidanzata il giorno prima del matrimonio peccato mortale fornicazione inferno fai la stessa cosa 24 ore dopo dopo il matrimonio niente di che niente di cui confessarti niente di male cosa è cambiato 24 ore di tempo certamente in quelle 24 ore è intercorso un evento ma sono cambiate di fatto 24 ore di tempo quindi comprendiamo quanto è importante valutare le circostanze posso fare una certa cosa dentro un certo tipo di contesto punto interrogativo allora queste cose amici miei dobbiamo impararle tutti quanti dobbiamo acquisirle tutti quanti perché capite la mancanza di prudenza può fare una montagna di cretinate di stupidaggini quando va bene dalla mattina alla sera guai su guai scelte bislacche le cui conseguenze ci ricadono tutte quante addosso e poi l'uomo sistematicamente l'uomo la donna l'uomo poi piange poi c'è sempre il pianto del coccodrillo ma dietro il pianto del coccodrillo lo sapete c'era una volta Giorgio Bragardi che c'era una delle scenette che faceva ci potevi pensare prima diceva così quasi sempre dietro le lacrime del coccodrillo cioè ci potevi pensare prima ci dovevi pensare prima e guardate che le lacrime del coccodrillo sono una delle caratteristiche eterne dell'inferno perché all'inferno è tutto quanto un magnarsi le mani per non essere stati prudenti se uno ci pensa bene quando avevi la possibilità di fare altro di scegliere non l'hai fatto e poi è troppo tardi sappiamo quanto è importante questa virtù ottavo elemento e dopo facciamo una sintesi la cautela la cautela calma la cautela calma sii cauto cauto tranquillo non essere precipitoso non essere impulsivo cautela cautela quindi nel dettaglio la cautela ti consente prendendo tutto quanto il tempo separa negli atti contingenti nelle situazioni contingenti il vero dal falso il bene dal male perché spesso appaiono mescolati e frammisti non si riesce a raccapezzarci si dentro la cautela la calma io sto imparando ma ti confesso sto imparando cioè quando ti si mette davanti una situazione una cosa che si turba diciamo che faccio dinanzi a questa cosa qui la cautela suggerisce e mi permetto di dare questo consiglio dormici sopra se ti senti non sereno non tranquillo non decidere dormi le decisioni possono essere prese quando noi stiamo in una condizione interiore di serenità o di distanza aspetta perché a volte la luce non ti arriva subito cioè non avete idea veramente adesso non voglio parlare di me quante cose sto imparando cercando di mettere bene in pratica questo principio quante stupidaggini mi sto risparmiando quante scelte sbagliate mi sto risparmiando io ricordo cioè te ne risparmi tante cautela calma calma la fretta è sempre cattiva consigliera poi reagire di impulso non ne parliamo ma amici noi capiamo di che grande virtù stiamo parlando una persona che è prudente è veramente un signore pensate la prudenza che è poi adesso chiudiamo dico questo e poi chiudiamo la prossima volta poi vedremo i vizi opposti e le virtù che gli assomigliano sarà da divertirsi un po' chiudiamo dopo dopo faccio la sintesi di questi otto punti pensate per esempio un politico un governante anche un ecclesiastico un parroco un vescovo un papa pensate se se non fosse prudente quante stupidaggini cioè non puoi non essere prudente specialmente quando sei come dire hai sulla responsabilità hai sul groppone le vite altrui non solo la tua ma pure degli altri tu non puoi agire come uno sconsiderato come uno scellerato non puoi se una persona che si trova in questi ruoli di comando non è attrezzata in questa virtù io dico passerai guai con nostro signore perché se non ce l'hai questa virtù non ti ci mettere in quella condizione non l'accettare questo ruolo fallo fare a qualcun altro non farlo tu perché sarai causa di danni di sofferenze di rovina delle persone che sono sottomesse oggettivamente alla tua autorità non lo fare lascia perde allora conclusione le otto parti della virtù della prudenza la memoria con cui si ritengono i principi acquisiti dall'esperienza o dal passato l'intelletto con cui si penetra la verità delle cose la docilità con cui si acquisiscono da fuori da altri si imparano i criteri di valutazione delle cose l'eustochia con cui si impara a ben congetturare a ben pensare facendo ipotesi da noi stessi quindi orizzontandoci e quindi scoprendo anche da soli i criteri e principi di discernimento la ragione con cui si connettono in maniera corretta i concetti con cui si ben ragiona non si sragiona non si fanno come dire non si inferiscono conclusioni del tutto strappalate in base a certe premesse ma logico conseguenziali la previdenza che ci consente di pensare a lungo termine a pensare alla conseguenza delle nostre azioni non soltanto sul piano immediato ma anche sul piano del lungo periodo e soprattutto della vita eterna la circospezione che valuta bene le circostanze e la cautela che fa stare calmi si prende tutto il tempo a disposizione e anche quello che non ci fosse per cercare di ben ponderare e di fare la cosa giusta ci fermiamo qui per oggi che ce n'abbiamo già abbastanza la prossima volta ripeto andremo avanti vedendo quindi conoscendo ancora un po' meglio questa virtù in base ai vizi opposti quindi ciò che ciò che non è ci aiuterà a comprendere meglio ciò che è bene la mia benedizione a tutti e appuntamento se vuole alla prossima settimana per una nuova puntata Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e la mia benedizione